Oggi 5 maggio, venerdì, ultima seduta settimanale, il manto erboso di via Olimpia tutto pieno, i vari gruppi della scuola calcio settore giovanile, tra poco usciranno anche i ragazzi dei giovanissimi. A questo lato vediamo il mister Gabriele, se lo riconoscete, qua c'è il preparatore dei portieri Gaspari Aurelio, che sta preparando i portieri, là in fondo c'è il gruppetto di Simone Giordano, là in fondo c'è gli esordienti di mister Giuseppe, qua c'è il gruppo di mister Renato, coadiuvato dal dirigente Mancini, là in fondo si vede di mister Giuseppe che sta andando bene al suo gruppo, in fondo in fondo il gruppetto di baby calciatori di mister Antonello Ucci. Ho giocato, ma hai visto con la barba questa? Sì, hai visto, più giovane. Ma lì, è il nuovo mister. Ecco, abbiamo sostituito il mister Gabriele, ecco, presentiamo... Sì, è un nuovo look per una nuova stagione, ho deciso di diventare più giovane perché sono il più anziano qui dello staff, quindi mi sentivo un po' vecchio con la barba e ho cercato, anche perché me l'hanno anche consigliato, quindi ho cercato di ascoltare questo consiglio e quindi sono più giovane di prima, zio K, alla grande. Bravo, bravo, in bocca al lupo. Grazie.